Conosci i personaggi dei videogames? Ehi! Zio Prete Duettami Prima tu Dai Lovino Vdim No Pick Lara Croft Tomb Raider o Tomb Raider Lo sa pure mia madre ma no Tom Raider Master Chief Alla serie di Halo Ah che sono quasi meglio Halo La Sora La Sora è Kingdom Hearts Kingdom Hearts Perché la Sora? Ezio Auditore da Firenze Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood Reveille Assassin's Creed L'ultimo Geralt di Rivia La serie di The Witcher The Witcher 2 The Witcher 3 E dopo lei The Witcher Hai visto? 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 Grazie.